I sindaci di Gromo, Valgoglio, Gandellino e Valbondione hanno inviato una lettera al Presidente e al Direttore Generale di Poste Italiane S.P.A. per manifestare il loro disappunto sui disservizi postali che si registrano da tempo nel territorio dell'Alta Valesseriana. La lettera è stata inviata anche al Ministro per lo Sviluppo Economico, al Prefetto, ai Presidenti di Regione e Provincia, al Presidente della Comunità Montane e a tutti i parlamentari bergamaschi. Nel testo si sottolinea che la riduzione indiscriminata dei giorni e degli orari di apertura al pubblico degli uffici postali comporta seri problemi agli utenti che, specialmente a ridosso delle scadenze di pagamento, si trovano costretti a fare lunghe file se non addirittura a dover ricercare gli uffici postali degli altri comuni. Appare quantomeno assurdo, scrivono ancora i sindaci, che la riduzione dell'apertura sia avvenuta non tenendo in considerazione le esigenze del territorio. Ciò è riscontrabile dal fatto che in alcuni dei comuni le chiusure cadano anche nei giorni di mercato settimanale nei quali notoriamente vi ha maggiore affluenza. Si fa anche presente che nei periodi estivi e di maggior afflusso turistico si assiste ad un'illogica e assurda riduzione dei servizi. I quattro sindaci dell'Alta Valle Seriana, pur comprendendo le ragioni alla base della politica aziendale, non possono certamente tacere il disagio che i cittadini devono sopportare per poter affluire di un servizio primario e di pubblico interesse come quello del servizio postale e chiedono pertanto a poste italiane di rivedere il piano delle aperture degli uffici.